... Milano non è mai stata così vicina per queste due squadre Masterchef United e Partizion De Grado due sorprese di questa Unileague Summer Cup che si conclude con questa finale del tutto inedita diamo lettura alle formazioni che entrambe parteciperanno alla finale, alla fase finale di Unileague Summer Cup di Milano con Passantino, Comella, Aiello, Andronico Marino e Candela per i Partizion De Grado Masterchef United invece con Di Bella, Vittione, Nascari Nascari, Troia, pensa bene, Vangelo e Lococo arbitra il signor Callipo della sezione di Palermo qui Riccardo Caldarella che vi dà il benvenuto e una buona serata Vangelo lo aspetta con la suola, se la porta avanti la gestisce, tanzo questo pallone, Vangelo prova a servire ancora Lococo, lo serve in mezzo Passantino fa un altro miracolo, gli sbarra la porta in faccia sta bene può largare per Vangelo, ancora Vangelo, tiri prova e stavolta non sbaglia Vangelo fa 1-0 Masterchef United pensa bene, pensa bene può pensare al tiro può calciare invece scarica di teco per Lococo Passantino ancora a Diedino Vangelo pensa bene, pensa bene, può fintare il tiro lo fa a entrenare, pensa bene, da solo tripla anche Passantino e fa 2-0 mamma mia Gianluca pensa bene ma che partita Manchester Masterchef United 2 Partizion de Grado 0 però di 69 ok da Aiello sta porta avanti ancora Aiello calca pacca il palo Aiello ma adesso in Partizion de Grado si fa vedere più concreto lì davanti dopo il passato di Lascari Lococo Lococo può accentrarsi e calciare il bene adesso invece sempre toglia toglia calcia e Passantino la toglie dall'incrocio gran parata questa è il portiere del Partizion Andronico va col destro una bomba diretta all'incrocio ma c'è difiazione secondo Calipo calcio d'angolo Candela calcia grandissima parata di Di Bella calcio d'angolo dopo le di Aiello fastidio troia se la porta avanti supera Marino con un po' di fortuna Troia mette in mezzo per Lascari si ferma sul palo il 3-0 del Masterchef United è difficile superare Candela lo supera lo tiene anche in campo questo pallone Troia può calciare quella partita anche di Troia che sta ripetendo Lascari Lascari ancora per Troia Troia non era facile ma qui deve calciare di destra non di sinistro volle divorato del 3-0 Lascari vuole il 3-0 il Masterchef è arrivato anche pensa bene su fortuna di Lascari Lascari lo serve ancora pensa bene pensa bene su fortuna Santino e mette dentro il 3-0 e la doppietta personale ancora Gianluca pensa bene 3-0 Masterchef United chiude la partita come è? no non c'è Piero Piero Calcio non trova la porta gran tiro però di Aiello che voleva riaprire questi ultimi minuti serve il suo fratello andare ancora Lascari ancora palleggiano i due Lascari Passantino però chiude la strada poi torna pensa bene pensa bene vuole la tripletta non la trova per pura sfortuna prima pallo poi Passantino e adesso calcio d'angolo ci si avvicina la vittoria Masterchef United è altro grande fucilata qui di Andrea Lascari che chiude ancora di più il match 4-0 adesso dominio assoluto del Masterchef United finisce la finale di Unilink Summer Cup e vince il Masterchef United trascinato da Gianluca pensa bene con una doppietta ma anche grazie all'ultimo gol di Lascari il Masterchef United batte per 4-0 un anche un po' impotente Partizan De Grado privo di forze in questa finale e Masterchef United e Partizan De Grado si rivedranno a fine settembre per le finali nazionali di Unilink